Beh, che ve ne pare di questo pomeriggio alle isole Keradi? Bellissimo! Stiamo... Un mare bellissimo, caldissimo I fondali? La temperatura promette I fondali stupenti, stupenti, meravigliosi, stupenti Abbiamo trovato molti funghi Questo sta bene, è di là che sta bene Ma secondo voi, per chi volesse fare un po' di turismo, come si deve, una situazione di questo tipo, dove la va a trovare? A che distanza stiamo dalla città? Saranno due miglia, sì e no, eccola là Ecco, giusto Quella è la città La città è là e si vede una parte nera Vabbè, cerca di eliminare quella parte lì, che non ci interessa Comunque, è vicinissimo La città ha un quarto d'ora di barchetta Arrivi e... E arrivi nelle isole tropicali La spiaggia, le rocce... Ah, la maschera dove l'ho lanciata? Ah, dove l'ho lanciata? Oh, è... Ho lanciata a tutti Ho scoperto Per quello è la città